La tua Etruria è al fianco di un mostro sacro, sì che è un mostro sacro dello spettacolo, della radio, della musica Un mostro anche come figura, no? Non mi permetterei mai, Elio Pandolfi No, ma io sono io che ci scherzo Ma ci credo, ma è una vita che scherza Sì, sto scherzando ancora Infatti Speriamo di andare avanti con lo scherzo che mi dira il suo morale Perché sono pieno di orinoria, nonostante l'età che ho, veramente che mi sostiene E oggi abbiamo scherzato con una favola un po' ironica, un po' cattivella, ma in fondo bella Che è Christmas Carol, dove Elio ha portato anche la sua esperienza, il suo passato Ci ha raccontato di quando era bambino Gli anni più belli, io non rammento gli anni più belli con nostalgia Ma li rivivo con tanto entusiasmo Perché sono nato, ho avuto il privilegio di essere nato in una città bella come Roma Ma bella come era prima Linda, pulita, soave, chiara, nitida E chi se la scorda più Ce l'ha nel cuore Eh sì, adesso è sempre bella, ma è sommersa da valanga, da lave Non lo so, comunque è sempre bella E poi abbiamo parlato del tempo, che in realtà presente, passato, futuro si confondono, non c'è Non esiste, se è soltanto il tempo, che è questo Io sono presente oggi Se adesso la saluto e vado di là, sono già passato Ed è ancora presente La seguo Il futuro è la porta No, è veramente, è bella, è molto difficile poi Io ho letto molto Sant'Agostino Anche se delle volte ho avuto delle difficoltà Perché questo è un teologo non indifferente Comunque Però hai riuscito a trasmetterlo anche C'erano tanti bambini oggi Quindi è bello Sì, sì La bellezza dell'arte è anche questo Veramente, veramente È stata una bella esperienza Poi Viterbo ci aveva già lavorato altre volte Peccato questo tempo così inclemente Che a volte ti impedisce di uscire Perché c'è paura di ritornare Ma ce la facciamo tranquillamente Alla fine oggi è stata una bella giornata Sì, è quello che io penso Mi sembra giusto Una curiosità Dalla sua esperienza Tanta storia Perché ha fatto praticamente di tutto Come vede oggi la televisione Il mondo dell'arte? Come lo vede? La televisione non la vedo quasi mai Perché sono sempre a studiare Davanti al computer Perché oltretutto Non lo so Non mi appartiene più Perché è tutto un mondo nuovo Che appartiene a loro Io mi trovo un pochino a disagio Quando per esempio Vedo questi comici nuovi Che vanno avanti E vanno avanti E si dibattono Per fare un nuovo tipo di comicità Ma è molto difficile Vedersi comici oggi La comicità vera appartiene al passato Ci sono state non so Gavette Storia Che si fa oggi Io non l'ho mai veduto Perché voglio restare nel mio io C'è qualcuno così Ma non la vedo più La televisione Poi non parliamo del telegiornale Che c'è da buttare Sta fiume immediatamente Non la vedo quasi più Lo sport sì Ecco Il calcio sì Qualche cosa vedo Per esempio Vedo qualche programma Che mi interessa Su Rai 5 Ma se no Non la vedo No 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 Ho tanto da vedere Il mio materiale No no Non mi annoio Non so che cosa è la noia Ma ci credo E si è visto Grazie Grazie del dono Che ci ha fatto Con la sua presenza Grazie E ci vediamo In un prossimo futuro Ma mi vedono dall'assù Ma non credo Perché non vado in paradiso Io sono peccatore Non ho l'infernaccio Non c'è posto No Ma si sta più caldi giù Appunto Con certi diavoli Un bel pollo la diavola Troviamo un modo Per divertirci sicuramente Sì è bene Grazie maestro Grazie Grazie